Sodinia, da dove arriva? Allora, Sodinia viene dal mio padre. Io ho iniziato a giocare calcio con 4 anni e c'erano 4-5 Felipe nella stessa squadra. Hanno scoperto che mio padre era soda, mi hanno messo Sodinia e da lì è rimasto. E com'era il tuo quartiere da piccolo? Era brutto. Era brutto? Era brutto. C'era la povertà, quindi è una roba triste, è una roba che non merita nessuno di vivere lì. Giocavo tutti i giorni. Io non andavo a scuola, ma andavo a giocare. Però avevo le cose della scuola, la camicia della scuola, i pantaloni della scuola e la pulizia passava e vedeva. Loro prendevano e ti portava a casa. Quindi io almeno due volte a settimana arrivavo con la pulizia a casa mia. C'era qualcuno dei tuoi amici che tu dicevi quello diventerà un campione? Purtroppo nella vita ti sono delle scelte, però c'erano tanti che io ho visto che erano forti, fenomeni, che poi hanno diventato trafficanti, hanno diventato delle persone brutte. Chi oggi li parla ancora? E così mi dispiace tanto.